Le indagini di carabinieri e polizia sono febbrili, si cerca un dettaglio, un indizio, un particolare che possa portare gli inquirenti all'individuazione dell'uomo che sabato scorso, poco dopo le 14, si è reso protagonista di due inquietanti episodi criminali che si sono verificati in pochi minuti in via Francesco Crispi e in via Generale Cascino a Gela. Un caldo buon rigio d'estate è turbato da un'azione delinquenziale che ha scosso l'opinione pubblica. Il primo avvertimento si è registrato in via Crispi, un uomo col viso coperto e probabilmente spalleggiato da un complice che lo attendeva in auto, ha preso di mira il bar centro colazione Domicoli imbracciando un fucile, ha sparato quattro colpi. In quel momento all'interno dell'attività commerciale era presente una dipendente di nazionalità rumena che è rimasta illesa ma sotto shock. Le fucilate hanno raggiunto alcune bottiglie e mandato in frantumi alcuni vetri. La donna è stata trasportata all'ospedale ed è stata tenuta sotto osservazione. Le sue indicazioni sono il vaglio della procura e saranno confrontate con le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza per meglio ricostruire le motivazioni del raid armato. Dopo pochi minuti l'identica scena da far west si è registrata a destra della città in via Generale Cascino. Anche in questo caso mani ignote hanno sparato prendendo di mira il portone di un'abitazione in cui risiede una famiglia di commercianti del settore alimentare. Uno dei colpi ha raggiunto una moto posteggiata nelle vicinanze. La procura di Gela, retta da Fernando Asaro, ha immediatamente attivato un coordinamento investigativo tra le forze di polizia. Intanto i carabinieri sabato notte hanno eseguito controlli su tutto il territorio. 60 le persone controllate, 29 i veicoli sottoposti ad accertamenti, 10 le sanzioni elevate al codice della strada per mancato uso di caschi e cinture di sicurezza. Un giulese di 22 anni è stato segnalato in stato di libertà per guida in stato di ebrezza alcolica. È stato trovato con un tasso alcolemico superiore alla norma.